Ah ok Ciao rega, sono Riccardo Busi, Modena, 18 anni Porto il mio R&B qui al Talent Mando in bocca al lupo a tutti gli altri partecipanti Come un gabbiano io voglio volare Su questa spiaggia non lo posso fare Come un vulcano io sto per scoppiare Col mic in mano sto per decollare